Una sfida alle istituzioni assenti in Via Lago di Borgiano, nel quartiere Rancitelli di Pescara, in cui sono noti problemi relativi allo spaccio di droga. Dopo innumerevoli appelli inascoltati, con la richiesta di una maggiore presenza di forze dell'ordine, il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, scende in strada con il tricolore per sfidare gli spacciatori. Questa è un'azione eclatante, perché lei sa che io da dieci anni sto chiedendo presidi fissi di polizia nelle zone calde di Pescara, quindi Rancitelli, Ferro di Cavallo, Via Caduti per Servizio, Fontanelle, Zanni e Via Rigopiano, zona centrale, e non mi hanno voluto mai ascoltare. Allora sono venuto io, sto in una piazza importante, rilevante dello spaccio anche di droga della regione Abruzzo, a rilevanza regionale, e mi sto sostituendo all'istituzione, sto facendo io un presidio fisso di un'ora e mezza. Cioè in queste zone si spaccia la droga, i cittadini onesti sono ogni giorno vessati, violentati. La mia presenza sta bloccando, per un'ora e mezza bloccherò il traffico di droga, i mercanti di morte, i venditori di morte, e bloccherò incasse importanti, perché una famiglia che vive qui nelle case popolari, una famiglia incassa 3.000 euro al giorno con lo spaccio di droga, 3.000 euro al giorno una famiglia che detiene un alloggio popolare e paga a malapena 10 euro al mese. Allora questo non è più possibile, qui non ci vogliono i vigili urbani, perché non sono deputati alla lotta alla criminalità, io vado a tutela dei vigili urbani, qui ci vogliono forze di polizia, forze di polizia, carabinieri, il CIO, la compagnia intervento operativo dei carabinieri, io oggi sto rischiando la vita, mi sono messo io davanti in una delle centrali di spaccio. Poi c'è un problema di mautenzione dei palazzi, qui sono due palazzi sgomberati, completamente abbandonati, dove viene nascosta droga all'interno di questi due palazzi abbandonati, ci sono fogne che non funzionano, strutture gravemente ammalorate, palazzi pericolanti, c'è tutto di più. Allora il sindaco, presidente di regione, chi comanda, chi governa questa regione, perché questi sono palazzi di regione Abruzzo, dove sta, che cosa fa? Hanno fatto una legge regionale farsa, una legge ipocrita, che lascia i delinquenti all'interno delle case popolari, perché qui non c'è un condannato in terzo grado, sono tutti a malapena condannati in primo grado. Quindi la legge che ha fatto la regione Abruzzo lascia indisturbati tutti questi criminali all'interno delle case popolari. Qui a differenza di via Gatubi al servizio e via Rigopiano, dove quando vado diversi cittadini scendono in piazza, qui c'è tanta omertà, perché c'è paura, perché i cittadini hanno paura, ci sono pochi cittadini coraggiosi. I problemi magari sono più forti, maggiori, i cittadini che si stanno battendo da anni, ma che hanno paura non si espongono, sono fatti oggetti di violenza, di angheria e quant'altro. Comunque siamo costretti noi, questo non è il mio lavoro, io sto facendo un qualcosa che non mi appartiene fare, sostituendomi alle istituzioni per fare un presidio fisso, mettendo a rischio la mia vita. Non è giusto, non è giusto. Io sto davanti a case di spacciatori e da quando ci sono io, qui abbiamo visto vedette cittadini e persone che volevano entrare magari per acquistare droghe, sono fermati, sono andati oltre, quindi gli stiamo rompendo il giocattolo. Un'ora e mezza noi stiamo dando fastidio, disturbando una manifestazione passiva, un disturbo passivo. Sono arrivato a tanto perché le istituzioni non mi ascoltano, Presidente di Regione, Sindaco, Prefetto e quant'altro non mi ascoltano, non vogliono fare quello che dico io.